Ciao ragazzi, ben bentornati su Kirby Adventure In verità adesso dovremmo farci il tro al capo Mi sono migliorato i tasti, adesso sono molto forte Vabbè, oggi ho giocato off camera e ho completato solamente il 3 secondi di mello Iniziamo a giocare, via! Quando siamo rosa! Siamo un po' troppo rosa In questo gioco, questa era la mia abilità preferita No, sinceramente raga, non lo dico perché ce l'ho adesso Ma proprio perché è la mia preferita in assoluto Andiamo! Sì, però senza fluttuare intanto Parkour! No, Kirby non lo sa fare, parkour Aspetta, lo voglio beccare Aspetta, ho sbagliato Sbagliato No! No, non ci sono riuscito No, ci riesco Vabbè, andiamo No! No, la mia abilità! Corri, Kirby! Eh vabbè, l'ho persa per sempre Oh, l'abilità elettro Spark! Oh, che cazzo Che cazzo di abilità elettro No, Spark! Voliamo! Ahia! No, no, nooo! Ma che cosa faccio? Sono troppo rosa! Che facciamo? No! Come cazzo faccio il boss? Ah, ricordate, solamente adesso come cazzo si vola Vabbè, prendo la fire Sono un bambino con sani problemi No, no, no No, no No, no, no Vabbè, già che ci siamo, prendiamola Quell'abilità che tanto è la mia preferita Ma che cazzo Ha preso Guardi sotto Ti ho preso Maxi Tometo Vabbè, prendiamolo Sì Siamo liberi Cazzo Come cazzo ho fatto a mancarlo Cioè, se No Ok Tu vai E adesso Kirby danza Oh Che soldi spazio Allora, in pratica se non mi sbaglio Seranno aperti Questo Questo qua in alto A me E questo qua Il livello 2 Però noi andremo prima qui Ok Eh, prendo Kirby ciccione Giusto così Perché mi piace Prendi Kirby ciccione Raga, ma secondo me E ho sbagliato Vabbè, allora prendo Kirby piccolino Che è tanto adorabile Prendilo Prendilo una palla così rosa L'ho presa L'ho presa Ho preso Kirby Poi ho Preso un Kirby E' una runa p Una up Sono così adorabile E' rosa Vabbè, ci facciamo Il secondo e il terzo livello Dai In questo episodio Ci possiamo riuscire Ah, abbiamo ancora L'abilità fuoco Buono, buono, buono Ragazzi, scusate La mia abilità preferita No No Cazzo Aspetta Io posso passare sopra Oh, l'abilità Ma Come cazzo L'ho schivata Dai, prendiamola Intanto che devo pure Succhiare Una palla di cannone Aia Vai, ho già tre vite Dai, sono pure L'inizio livello Un lastellino Divento più bello Adesso No Ah, ah Ah Eh Ah, qui non posso Usare abilità Mi ero dimenticato Perché ora Bombarolo gigante Vai Ma ci manca solamente Una bomba Aia Buo Sono piccolo Ah Non ci provare Sono troppo rosa Per essere colpito No No Ciao Aia Poi mi sono Un amichetto No Tu adesso mi dai L'abilità Fire Tu muori Perché già Ci ho affrontato Ah no Questo qua è il nemico Normale Sono bellissimo Ma che cavolo L'abilità Fuoco In acqua Diventa Abilità acqua Bene No Spero 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 No Eh Già un HP Max Intometro No 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 Scorratelo Vai Kirby Sei così rosa Dentro i nostri cuori Vai Ma quanto cavolo Manca per la fine Di sto livello No 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 Io amo Quando schiattano Vabbè Io non giro la scala Sono un ribello Faccio un geno Oh Abilità spada Non riesco a prendere Preso Stiamo con una spada in mano Però se Kirby entra nella porta Diavolo E va beh Ok Ok dopo qui Non mi sono mosso Di un cavolo Il livello 3 Non l'ho toccato proprio Allora andiamo Cosa cazzo ho fatto Ai Para Tanto sono alto Un blocco E fiero di esserlo Aia Mi è caduto proprio in faccia Vabbè Vabbè è la mia abilità preferita Tanto No L'abilità Spazzolina Non credo che esista No perché raga Io sto giocando A Kirby Questi qua E i Kirby Nuovi Con il lato Da Nintendo Switch No quello l'ho È in seguimento rosa No è in seguimento rosa La mia abilità Poveri Spera avete rotto I cani Allora Volo verso l'infinito Succhia Vabbè almeno Perlomeno Ha un'abilità Ma non fa niente Meglio prendere Quella fuoco Posso Che c'è di No Fire Vabbè meno male Che abbiamo ancora Le quattro vite Vai Uh Ah ecco perché Serviva l'abilità Fire Aia Sono una piccola Palla rosa Non ho fatto niente No Kirby Se entrate Nella porta Oh cazzo Ma che cazzo Di abilità fuoco È quella Potenziata Come cazzo Ho fatto No Aspetta Se lo faccio Aspettate Posso fare La scivolata Questo mi rende Molto felice No No di nuovo Le cose di inseguimento Rosa No le cose di inseguimento Rosa No Perlomeno Non mi ha colpito Quel cosa Bene No No Il cosa di inseguimento Rosa No No La mia abilità Ma è impossibile Sto livello Vabbè Prendo l'abilità Spark Quello che mi serve È un max Intometro Ma come cazzo Ho fatto A colpirmi Spiegate Spiegazioni Ora Beh Pia stabilità Stato zitto Dimmi che non mi vedi Da qua sopra Sì Non mi ha visto Dai Sì Sì Eppere Che diavolo Ma è impossibile Brutto Rosa No No Ma questo Basta Seminarlo No Dai Sì Spero che da questo Non mi vede Ok Non mi vede Oh Uccidila Eh vabbè Io salto Porco cane Porco cane No 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 Ciao Ok Ok Finalmente Siamo arrivati Siamo arrivati A questo livello Vabbè 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 andiamo Cioè Cioè Ma se Ma se Rientro Ah posso avere l'abilità Sparo all'infinito Eh vabbè raga Per questo episodio Ci Salutiamo Ciao Grazie Aspetate Ciao Da Kirpi Pia 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 Pia